Ciao ragazzi! Veniteci a trovare sabato 18 maggio all'ore 10 a Calcio Sicilia in Vegatona la loggia perché ci sarà una partita di calcio speciale un quadrangolare un evento di beneficenza in cui la squadra di calcio di Sicilia Cabaret si incontrerà con altre squadre tipo la squadra dei magistrati e tante altre quindi vi aspettiamo per contribuire a quest'evento sabato 18 maggio all'ore 10 Calcio Sicilia via la loggia Ciao ragazzi! Ci vediamo giorno 18 maggio alle ore 10 del mattino dici ma così presto? Sì! Per una giusta causa, per la solidarietà infatti calcio è solidarietà al Calcio Sicilia in via la loggia a Palermo ci sarà un quadrangolare di squadre che si sfideranno ci sarà la squadra antimafia i magistrati di Palermo ci saranno anche noi di Sicilia Cabaret venite a trovarci 18 maggio ore 10 vi aspettiamo non solo per noi ma per la solidarietà Ciao a tutti! ci vediamo il 18 maggio alle ore 10 per un quadrangolare di calcio appunto calcio e solidarietà ci sono un sacco di squadre come la squadra antimafia la squadra dei magistrati la squadra a Fonigni e Palermo ma soprattutto la rappresentativa di Sicilia Cabaret esattamente ci vediamo tutti quanti al campo di gioco appunto quello della polisportiva calcio Sicilia in via la loggia 5 interno della S.L.Uspotale 6 Palermo signori come faccio a ricordarmi tutto questo lo sto leggendo adesso comunque ci vediamo tutti quanti mi raccomando una cosa benefica appunto cose comunque di cuore fatte di cuore vedete me giocare sogno un cioppufetta frutta e zino sinistro ragazzi ciao amici il Cavaliere Oscuro assieme agli altri comici di Sicilia Cabaret vi aspettano sabato 18 maggio alle ore 10 del mattino presso il campo calcio Sicilia che sapete dove si trova in via Gaetano la loggia dove si terrà il quadrangolare calcio e solidarietà ci sarà la squadra dei magistrati la squadra antimafia e la squadra del poligono di tiro e ovviamente noi di Sicilia Cabaret sarà un quadrangolare a scopo benefico a favore delle associazioni Astrafè e BART e premeranno le ragazze di Miss Mondo quindi è un'occasione da non perdere e vi raccomando venite in tanti e fate passaparola altrimenti vannaglio e me ne vevo osango ciao ciao ragazzi ci vediamo sabato 18 maggio alle ore 10 presso il calcio Sicilia in via la loggia per una partita di beneficenza dove saremo presenti tutti noi di Sicilia Cabaret con altre tre squadre un quadrangolare di calcio e solidarietà per accogliere fondi per i trapianti pediatrici dell'ISMET quindi non mancate venite numerosi e per una giusta causa bisogna aiutare chi sta peggio di noi va bene ciao ci vediamo sabato 18 maggio ciao ciao a tutti allora vai che devi dire calcio e solidarietà ecco per gli amici siciliani il 18 maggio a Calerno a Palermo esatto ci sarà il quadrangolare e benefico di calcio con quelli dell'antimafia si football club antimafia magistrati Calerno i magistrati Palermo esatto e quelli del Cabaret si la rappresentativa Sicilia Cabaret e poi l'Ancri sezioni Foligno e Palermo quindi ci siamo anche c'è anche Foligno in qualche modo e noi siamo di Coligno ecco quindi ci sentiamo molto siamo onorati di avere una rappresentativa in questa bellissima iniziativa quindi mi raccomando partecipate e che dire che dire che dire che si dice in bocca al lupo ecco in bocca al lupo dai da ciao da Nicola e dai sotto ciao a tutti e allora ragazzi sabato 18 maggio alle ore 10 al Calcio Sicilia in Mila Loggia la squadra di Sicilia Cabaret si riunisce per far ridere voi e far divertire gli altri un quadriangolare di calcio dove comunque l'obiettivo è la beneficenza aiutare gli altri aiutare chi sta peggio in questo caso l'ISMED i tre pianti quindi sosteniamo è un quadriangolare faremo ridere ci divertiamo portiamo solidarietà perché solidarietà è amore e amore su chi è un quadriangolare di calcio